Sono state confermate tutte le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e riguardanti la società dell'Akregas. Finalmente un comunicato stampa ha messo in chiaro le ultime evoluzioni in casa Bianca Zurra. Il tecnico Lillo Bonfatto è stato sollevato ufficialmente dall'incarico per la seconda volta consecutiva e al suo posto arriva l'esperto Giancarlo Favarine, toscano di Marina di Pisa, la cui firma dovrebbe avvenire in settimana. La società ha sottolineato che l'essunero di Bonfatto è avvenuto su esplicita indicazione dei nuovi soggi. Favarine è un allenatore di grande esperienza, competente e dal grande carisma, che vanta oltre 700 panchine tra Serie D e Serie C. La scorsa stagione ha allenato il Levorno in Serie D. Nella sua lunga carriera ha vinto sei campionati tra i professionisti con squadre del calibro di Lucchese, Aglianese, Andrea, Castelnuovo e Venezia. Alla guida della Lucchese nella stagione 2009-2010 ottiene la promozione in Serie C 1 e vince anche la Supercoppa di Lega di Serie C, vedendosi poi assegnare la panchina d'ora. Per quel discorso il nuovo tecnico Biancazzurro ha diretto il suo primo allenamento allo Staglia Seneto, prendendo conoscenza dell'attuale Rosa a sua disposizione ed anche in previsione del prossimo impegno di campionato sul campo del capolista Siracusa. Nei prossimi giorni sarà programmata una conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, dell'entrata in società di nuovi soci e del prossimo mercato di reparazione che aprirà appunto in questi primi giorni del mese di dicembre.